Un saluto amici da Guido Bagatta, ritornato nel nostro studio per questo martedì. Oggi torniamo sul discorso del Napoli, perché nelle ultime ore si sono intensificate le voci che vorrebbero un Garcia veramente a termine, a scadenza, come dicono i battutisti, come un vasetto di yogurt. Tutto questo però è figlio di quello che è accaduto in estate, dove De Laurentiis ha pensato di poter fare un po' tutto da solo. Il divorzio con Spalletti aveva anche dei motivi extra calcistici che si trascinavano, nonostante l'incredibile striscia di risultati positivi della squadra, si trascinavano questi problemi ormai da troppo tempo. Ha praticamente De Laurentiis liberato, mettiamola in questo modo, Spalletti. Poi ha cambiato anche la società, praticamente non sostituendo, giuntoli, o meglio sostituendolo però con delle persone che non avevano voce in capitolo, che potessero fare anche da filtro tra il nuovo allenatore che sarebbe arrivato, e poi appunto è stato Garcia, la squadra e la proprietà. Tutto questo ha generato una serie di problemi che si aggiungono a quelli che abbiamo raccontato più volte. Quando tu sostituisci uno che ha vinto, tra l'altro contro anche pronostico, uno scudetto da favola e se ne va, diventa difficilissimo per chi arriva. Ho fatto già più volte l'esempio di Lippi nel 2006 con il campionato del mondo. Donadoni, ottimo allenatore, arriva dopo di lui e viene ovviamente bruciato in pochi mesi. Questo è un po' quello che accade, è la legge del dopo vittoria e del dopo trionfo. Ovvio che Garcia poi, lo sappiamo, ci ha messo molto molto del suo e il suo modo di fare lo ha isolato anche di più. Adesso è veramente un uomo solo, non al comando, ma un poco più sotto, molto più sotto del comando. Però io per non dilungarmi troppo vi dico, cercate di pensare con quello che è successo in Champions, con il Napoli che ha perso sì con il Real, ma giocando molto ma molto bene, e Garcia e la squadra che sono usciti tra gli applausi del pubblico partenopeo. Qualche giorno dopo perde male con la Fiorentina, fa quello che non si deve fare, c'è dei cambi sconsiderati e viene appunto considerato dal pubblico come l'ultimo, come direbbe Mourinho dei Pirla, uno da cacciare al volo sul momento, sul posto. C'è una via di mezzo per tutto, anche se il popolo napoletano è molto molto umorale, nel bene anche nel male, e quindi questo dobbiamo considerarlo. Battuta per chiudere, chiunque arriverà, se arriverà, ma sembra proprio di sì, farà una fatica enorme. Sarà Igor Tudor? Ottimo allenatore, però attenzione, perché arrivare in corsa e subentrare su una situazione come questa è difficile per tutti, lo sarebbe anche per Klopp. Uno come Tudor ha dell'esperienza, ma non una grande esperienza, anzi un'esperienza su questo tipo di club, su quello che succede a Napoli, sulla pressione e sul fatto di dover per forza vincere qualcosa l'anno dopo uno scudetto arrivato veramente inaspettato, ma tra il trionfo generale. A domani.